Lasciamo la Lombardia e spostiamoci in Veneto per parlare del referendum per l'indipendenza. Se ne è parlato nelle settimane scorse perché la questione è giunta nel Consiglio regionale con qualche difficoltà. Diversi gruppi indipendentisti sono scesi in piazza diverse volte. Noi abbiamo raccolto i pareri nell'ultima manifestazione che si è tenuta a Verona. Sentiamo la voce dell'europarlamentare leghista Lorenzo Fontana. Eurodeputato Lorenzo Fontana, a Verona questa manifestazione di plebiscito 2013 per l'indipendenza del Veneto. In Regione Veneto si sta facendo melina per indire questo referendum. Come la vede? È evidente che tante persone, tanti consiglieri regionali del Veneto hanno paura di far esprimere il popolo veneto sulla sua indipendenza, sulla sua autonomia. Probabilmente perché sanno che l'esito di un referendum di questo tipo sarebbe per la stragrande maggioranza favorevole. Quindi poi si aprirebbe un percorso politico per l'indipendenza che evidentemente tanti per interessi politici e forse anche economici che hanno non vogliono. Però bisogna portare avanti questa battaglia, è una battaglia difficile, non sarà assolutamente una cosa che si fa magari in due giorni e neanche una cosa semplice. Però sono convinto che con l'impegno di tutti riusciremo ad avere gli stessi risultati che hanno altri popoli, quali per esempio gli scozzesi o i catalani. Dal suo punto di vista è un po' privilegiato dalla finestra di Bruxelles europea dove lei lavora. Come vedono in Europa questo piccolo movimento del Veneto? Beh dobbiamo dire che in Europa si sa che vi sono due, quantomeno due Italia, nel senso che vi è un'Italia del nord con le piccole e medie imprese, un'Italia che produce, un'Italia che lavora, che noi però amiamo chiamare Veneto, Lombardia, nord. E poi c'è un'altra Italia che invece ha grossi problemi, problemi economici, buchi di bilancio, sprechi e via via discorrendo non ultima la criminalità organizzata. Questo in Europa si sa e si sa anche che ci sono spinte indipendentiste. Ovviamente anche in Europa tanti hanno paura a dare il via libera a forme di autodeterminazione perché per esempio pensate ai governanti spagnoli o anche gli inglesi, nonostante siano molto più liberali rispetto ai governanti italiani, hanno paura perché ovviamente ci sarebbe un riassetto di tutta l'Europa. Probabilmente anche un cambiamento che all'Europa serve perché il pericolo che abbiamo adesso è che potremmo passare dal centralismo italiano e romano al centralismo europeista che potrebbe assomigliare a quello dell'Unione Sovietica. Uno dei dubbi che qualcuno ha è che siamo troppo piccoli, però non è vero, in Europa ci sono stati con le stesse popolazioni del Veneto e addirittura anche con chilometri quadrati più piccoli. No anzi devo dire che i quasi 5 milioni di abitanti del Veneto intanto sono di più per esempio della Finlandia che è uno stato comunque importante all'interno dell'Unione Europea ma anche più della Danimarca, più di tantissimi stati, quindi voglio dire non c'entra assolutamente il Veneto, non è minimamente piccolo, anzi abbiamo qui a fianco la Slovenia, fa 2 milioni, quindi insomma la metà di noi, la questione di essere piccoli non c'entra assolutamente niente. Come vediamo un po' l'indipendenza del Veneto all'interno del progetto invece della Lega, della macro regione, della Padania? Beh è chiaro che nel momento in cui il Veneto dovesse diventare indipendente io penso che anche le altre regioni, Lombardia, Piemonte, vorrebbero tenere la loro autonomia perché purtroppo abbiamo tutti lo stesso problema, paghiamo tantissime tasse e poi non abbiamo questi soldi da tenere sul territorio per fare le opere che servono ai nostri cittadini. Questo è uno scandalo assoluto, purtroppo lo Stato italiano ormai è fallito, lo sappiamo, i bilanci parlano chiaro e quindi sarà solo una questione di tempo. C'è da dire che noi se potessimo gestire la nostra tassazione non avremo nessun problema di bilancio, non dovremo fare nessuna finanziaria e anzi probabilmente saremo lo Stato trainante d'Europa.